Double buongiorno a tutti ragazzi, Superpatch22.10 non ha deluso le aspettative perché il content sembra veramente pazzesco, c'è veramente tanta roba. Iniziamo perché dobbiamo andare super veloci considerando quanto roba c'è, mi raccomando iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanellina, codice l'Alexano dei negozi oggetti che vi ricondivido sempre tranne oggi che appunto siamo parecchio di fretta. Allora, prima cosa da notare assolutamente senza sudore, la mimetica della NoSuite, questa verrà regalata a tutti quanti perché Epic ha fatto una manutenzione più lunga del previsto che è iniziata a partire dalla notte di ieri, quindi per scusarsi ecco hanno regalato una mimetica a tutti quanti. Quindi pigliate e portate a casa, penso che vi era data indipendentemente da quando entrate, però prima entrate meglio è perché siete sicuri che vi verrà regalata. Eccoli, allora ovviamente io non sbaglio mai, cheat, nel senso che ve l'avevo detto che sarebbero arrivati, questi ragazzi sono le due skin di Halloween del contest che i due artisti hanno vinto e quindi erano state promesse che sarebbero divenute delle skin. Sono effettivamente tanto inquietanti quanti i disegni perché la mano è particolarmente pesa, cioè proprio anche il fatto che vedete insomma le pieghe nella mano è veramente inquietante con quest'occhio giudicante peso. E lei era già abbastanza inquietante già da prima, cioè non è che servisse un grande aiuto, fa paura effettivamente, hanno mantenuto come vedete l'alternanza scheletro zombie ma è veramente pesissima. Ripeto, lui è peso, cioè fa più paura rispetto al disegno che abbiamo visto anche perché è un disegno meno dettagliato e non in computer grafica. Lei più o meno è stata rispettata ed è effettivamente spaventosa, lui è veramente inquietante. Tra l'altro come farà a mangiare o bere tipo gli shieldini, visto che non ha la bocca? Questa è una domanda che rivolgo al pubblico e non rispondo. Quindi andiamo avanti. Allora, questo qua ragazzi pure era una skin dei survey che è stata aggiunta ovviamente alle skin disponibili. Mi ricorda tantissimo, io purtroppo il nome ufficiale del nemico non lo so, ma chi ha giocato Super Mario se lo ricorda sicuro, è il nemico quello tipico che sta nei giochi di Mario 2D nel deserto, il totem di palline spinate. Adesso non mi ricordo come si chiama, però insomma è veramente tanto 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 simile. E niente, vedete che è una bellissima schermata dove si vede lui e un altro tizio che fanno i marshmallow con le loro parti del corpo, evidentemente. Quindi, bene. Zero build. Allora, c'è stata aggiunta la modalità horda senza costruzioni, il che è veramente pesissimo. Voglio vedere se sarà più semplice o più difficile. Teoricamente sarà più difficile, quindi vediamo quali sono eventualmente i bonus assegnati. Sono molto curioso di vedere, sinceramente, perché c'è il custode finale, quello grosso, senza un'adeguata costruzione. E' tosta, veramente tosta, quindi boh, vediamo un po' che si inventano. E eccolo qua, in tutto il suo splendore, questo nuovo tizio che ha, come vedete, la colorazione sia bianca che più scura. E' bellino anche il piccone così col fiore, bello in realtà. La mimetica è ok e la schermata che avete già visto. E' una skin molto simpatica, mi piace molto. Nuovo bundle, ragazzi, quindi recolor di vecchie skin in modalità cromata e non del tutto. Questa apparteneva, se non sbaglio, a un vecchio... Io non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che questa appartenesse a un vecchio pacchetto iniziale. Questa è Sirena, la conoscete. E lei, pure, penso sia dello shopping invece, giusto? Sono skin che non sono proprio il mio target, vi dico la verità. Non sono le cose che mi fanno impazzire, però so che a tanti piacciono e quindi, evidentemente, faranno impazzire anche voi. Bellini picconi, gli zaini sono riedizioni, quindi... La guardia OE è stata aggiunta alle skin, ora. Verrebbe da dire finalmente. Non so se c'è una ragione pratica dietro questa scelta, ma semplicemente Epic solitamente fa così. Aspetta che sia passato parecchio tempo dall'uscita di una determinata skin prima di raggiungere nel negozio oggetti. Le guardie OE sono parecchio tempo che sono in-game senza essere utilizzabili come skin dei player, perché, se non vado errato, mi sembra siano dal 2020, giusto? Con noi, considerando che sono uscite nella stagione 5, per cui peso, cioè è passato veramente tanto tempo. E dopo circa due anni, poco meno, finalmente escono come skin. Quindi, bella per Eugenio, se vi riguardate la storia del Tower Watching. Allora, gli stili nuovi. Allora, abbiamo parlato a lungo di questa cosa, di quanto siano corretti gli stili aggiuntivi, eccetera. Ok, qui ci sono altre skin, ma adesso badate un attimino al discorso principale. Allora, bene e male. Nel senso, non sono mai, come posso dire, super entusiasta quando si tratta semplicemente di color applicato a tutte le skin. Cioè, io preferirei, banalmente, meno roba, ma fatta meglio e più ad hoc per i personaggi. Tuttavia, voglio dire anche la verità, a sto giro mi piace di più. Perché? Perché, come vedete, non è una cosa invasiva applicata a tutta la skin come se gli fosse colata la vernice sopra. Ed era facilissimo in sta season sgarrare da quel punto di vista, perché... Ah, ma c'è il cromo, quindi, capito, gli è cascato il cromo giallo sulla testa. Non sono caduti così, diciamo, sul banale. Perché vedete che interviene, è una colorazione che interviene solo sui vestiti. Quindi, sono un po' combattuto, perché è comunque migliore del solito. Ma... Quindi, si potrebbe quasi dire Epic ce l'ha ascoltato. Però, non lo so, cioè, io preferisco come sono fino al 140 gli stili aggiuntivi, ok? Dammene meno, cioè, fai che ne sblocco, tipo, ogni 20 livelli, due, volendo, ok? Ogni 10, quindi ogni 10 livelli. Però... Boh, non lo so, cioè, meglio, per carità, perché non è terribile. Cioè, finiresti anche per usarle, volendo, quindi ci può pure stare. Però, mi aspetto sempre di più da questo punto di vista. Quindi, bene, ma non benissimo, secondo me. Però, fatemi sapere che ne pensate voi. Eccoli qua, riepilogati. Vedete, non sono tremendi. Cioè, no. A parte Spider-Gwen, che ovviamente, essendo tutta una tuta, interviene di più la colorazione. Cioè, non si può dire che è brutto, ok? Non è brutto. È carina Rosa Lennox, così. Cioè, le vorrei le skin blu, ok? Quindi, forse, addirittura, faticherò. Mi convincono molto di più dell'applicazione del colore brutale sopra la testa di un personaggio. Però, se vi devo dire la verità, preferivo Rosa Lennox con un'altra capigliatura, per dire, e solo lei per dieci livelli, per dire. Però, vabbè. Comunque, secondo me, è un miglioramento da questo punto di vista. Mi sembra che non è la prima volta che lo fanno, eh. Questo volevo assolutamente metterlo agli atti. Cioè, non è la prima volta che lo fanno. Però, meglio questo tipo che quello che abbiamo visto in vecchie season, dove gli casca la vernice sulla testa a tutta la skin. Questo volevo essere, eh, volevo essere chiaro su questo punto. Explosive goo gun è arrivata quella, l'arma del trailer, ragazzi, che è appunto la, l'arma quella che lancia, proprio effettivamente la goo, quindi la, la colla sarebbe. Mmm, ok, il vischiume. Eccolo qui. Esattamente quella che usa Paradigma nel trailer. Qua la bella canna piena di, eh, colla. E questo è lo sparacolla. Ok. Questo, pure, è un'altra arma che si è vista all'interno del trailer. È quel fucile a colpo singolo in stile cecchino che usa Miao Skeletor, se non sbaglio, se ve la ricordate. E, it's ok, cioè, mi interessava anche, vi dico la verità, perché è un'arma che ti dà il mirino in prima persona per sparare un colpo singolo, quindi, in realtà, è figa, secondo me, e va provata assolutamente. Quindi, vediamo come si comporterà all'interno del game. Sembra un cecchino, ma, ripeto, è un, è un fucile a colpo singolo. Torna il Grappler. Oh, yeah. Eh, ci sta, nel senso che hanno lavorato bene nella rientregazione di qualcosa di simile ai guanti di Spider-Man della stagione 1. E, son contento che abbiano proseguito questa via, quindi, buono così. Sono tornati. Vediamo se non eccedono nella mobility, perché, in realtà, si giocava abbastanza bene in stasi, sono considerando il cromo, però, adesso, vediamo che cosa succede. Casse. Allora, nuove casse, questa è molto interessante, nuove casse che si aprono con le chiavi. Apprezzo la scelta, in realtà, perché, molto spesso, i bunker non bastano per le chiavi che trovi, almeno per il drop rate attuale. Queste casse vanno un po' a scongiurare il discorso di possederne troppe, o, comunque, dire, cacchio, ho due chiavi, ma non ci sono bunker in zona, quindi non posso fare nulla. Mi piace. Mi piace anche che, vedete, qual è il vantaggio di queste casse, che hanno sopra una sorta di ologramma, che vi proietterà la rarità e il tipo di arma che andrete a trovare all'interno della cassa. Quindi, sono dei loot non randomici, che puoi scegliere coscientemente nel momento in cui li vedi. Questa è una cosa, secondo me, perfetta come meccanica. La apprezzo tantissimo. Dobbiamo vedere se con due chiavi c'è tanto loot o poco loot, dobbiamo vedere quante ne cacca fuori, però mi piace veramente, veramente tanto. Questo è proprio on point, secondo me, come cambiamento. Questo ci sta azzeccato e espande il discorso delle chiavi. Molto bene. Jump pad. Questa è la che ne abbiamo parlato pure. Questa è una jump che si tira e si piazza, quindi è una sorta di trappola lanciabile. Ancora una volta, quindi, aumenta la mobility in game, però, vabbè, la jump pad, raga, è sempre utile, secondo me. È un po' iconica per Fortnite, sicuramente, ma perché serve. Cioè, nel momento in cui sei lontano dalla save band, si spara e si prende un po' di tragitto, piuttosto che utilizzare una macchina, o quando sei ormai da solo, che potresti usare il rampino, che in teoria è anche più forte e copre più distanza. Sono sempre utili, secondo me, non troppo sgrave ed è bello averceli in game, quindi sono molto contento e, ovviamente, anche i no build, finalmente, le potremmo provare, quindi, ehi, ottimo. Macchinette di Rocket League. Aggiunta la creativa, funziona come le macchinette di Rocket League, proprio uguali. Che ci farà Epic di sta cosa? Non lo so. Forse c'è una collab in atto, non mi sono informato ancora abbastanza bene per quello che può essere, magari, l'arrivo di un evento dedicato. E, palesemente, la macchinina di Rocket si guida come, praticamente, la macchina di Rocket. Questo è molto interessante, perché è un po' come se il gameplay vero e proprio di Rocket entra all'interno di Fortnite. Questo è possibile, ovviamente, con la Real Engine e tutti i giochi collegati ad esso, quindi è una cosa molto figa. Però devo approfondire se ci saranno vari eventi o cose. Per ora potete trovare la Octane, se non sbaglio si chiama questa macchinina qua, all'interno della creativa, provatela, che è proprio... dovrebbe funzionare identica come è su Rocket. Mio Scheletra è diventata un NPC, quindi volevo dare un'occhiata. Lei sa che è fantastica, quando hai nove vite va bene... Va bene prendersi un po' di tempo per capire che cosa trattiene per te il futuro. Giusto? Ok. Ovviamente la traduzione... Ovviamente non so perché qualcuno di voi si aspettava una traduzione... scusate, una descrizione luristica. No, non c'è niente di lore. E, allora, ovviamente, visto che il lord è stato aggiornato, sono stati aggiornati anche gli zombini, questi particolarmente di roccia, pietra e brutti, come vedete. Però, sì, ovviamente, sono stati aggiornati gli zombi perché arriveranno con la modalità lorda. Vi ricordo che questa non è, tra l'altro, la patch di Halloween. Attenzione, arriverà dopo. Andiamo avanti. Questi sono i cambiamenti in mappa. Come vedete c'è una diffusione del cromo capillare che a partire da qui, vedete, ha raggiunto parti di questo tipo. Qua, addirittura, qui a Shifty c'è un discorso che adesso facciamo. Il cromo mi sembra che ha raggiunto anche queste parti qui. Ovviamente quasi espanso. Quindi è una sorta, veramente sembra un albero della realtà, al contrario, no? Che espande i suoi rami. Qui la ramificazione di cromo anche si espandono. E l'isola ha risposto molto a questa cosa. È molto bello perché vedrete che tanti posti sono cambiati. Adesso lo analizziamo insieme. Vedete che, ad esempio, la nave dei pirati si è spostata con le sue mongolfiere. E non è l'unica. Ne ho schippate alcune, ragazzi, perché ci sono tanti edifici che si sono sollevati in aria. Questa è la nuova casa che è presente a Condotti Confusi che teoricamente racchiude al suo interno una collab di cui dobbiamo discutere tra poco, forse. Non lo sappiamo. Comunque, eccola qui, la magione. Sembra un po' il castello di Doom, vista così, ma comunque, ecco, è la tipica casa patronale gigante. Vediamo che ruolo avrà, assolutamente. Poi, qui vedete che questo è l'edificio dell'Anno Suite che, appunto, se n'è volato via. Questo è lo stesso discorso applicato alla capanna. Sì, ormai era una capanna di Mancake. Adesso è un posto veramente super futuristico. Anche qui, ovviamente, si è applicato tutto il sistema per evitare il cromo, che, come vedete, si è diffuso proprio sotto di lei. E addirittura il faro. Cioè, ce ne sono veramente tante, raga. Non le ho messe tutte, ma fidatevi che i cambiamenti in mappa sono grossi. E' sorprendente, in realtà, perché abbiamo una season più corta, ma Epic sta lavorando duro, perché adesso avremo questo. Aggiornamento prossimo arriva Halloween, quindi schifo, teoricamente, non farà. Molto interessante, molto bene. E, teoricamente, poi, passato Halloween, non dico che siamo già verso la fine, ma è l'ultimo mese, quindi... Ottima season, ottima season, veramente. Poi è il dirigibile. Vedete, da Tana Strana si è spostato, sta andando verso proprio il castelluccio qui dei condotti. Era per farvi vedere anche questo. Ecco, e c'è questo orologio. Ora, io c'ho un problema. C'è la community splittata. Io non ho visto Stranger Things, ok? Ho visto tre episodi, poi l'ho droppato. E alcuni dicono che potrebbe essere una collab, perché credo nella quarta stagione ci sia qualcosa legato a questo orologio. Veramente, l'ignoranza mia, ragazzi, acqua pullula, eh. Quindi è tutto in mano vostra. Però alcuni addirittura hanno cacciato fuori frangè. Cioè, hanno messo in mezzo freddi. Ho visto in alcuni commenti degli americani sotto i post di Twitter che vedevo. Non so perché. Ci deve essere qualcosa pure su freddi, con sto orologio. Cioè, ancora frangè? Non ne posso più. Però, fatemi sapere, ragazzi, io qui proprio do carta bianca, nel senso che non conosco Stranger Things, ho visto due episodi. Frangè sembrerebbe il quattro, forse, legato a questo orologio. Non l'ho giocato, quindi non dico nulla. Ecco, potrebbe essere un riferimento a questo orologio, dicono di Stranger Things. Ma, appunto, non so neanche dove compaglia, se è all'interno della opening oppure nella serie vera. Purtroppo, ripeto, non ho seguito. Ci assomiglia e non ci assomiglia. In realtà, boh, vedremo. Però, ovviamente, sto coso qui in mezzo a un senso ce l'avrà. E poi, ragazzi, chiudiamo la serata con le missioni dove io non so niente. Mi hanno solo detto lele sono pesissime e non vedo l'ora di sentire. Quindi, volume a palla di fuoco e via. Non sei la persona che cercavamo. Ah, ve lo dico. Cioè, secondo me, questo è il nulla. O comunque, oltre all'Araldo, ok? L'Araldo del nulla, questo è quello che l'Araldo sta portando avanti. Non sei quello che cercavamo. Non è che sono tipo le missioni di Byte, forse. Non lo so, eh? Ah, attenzione, perché... Stiamo cercando qualcuno e non sei tu. Avete visto, raga? Io ve l'avevo detto, però, eh? Sono tutte cose che abbiamo già discusso, queste. Su come il nulla agisce, che sia una sorta di prova, ha bisogno dei suoi proseliti e poi li premia nel caso siano valorosi. E ne abbiamo parlato di tutte queste cose, no? Mamma mia, pesissima. Vedo che finalmente hai deciso di affrontare il tuo destino. Eh sì, è uguale. Ma prima devi dimostrare quanto vali. Valore dimostrato. Mamma mia, mamma mia. Le stesse forze che distruggeranno gli altri ti porteranno al trionfo. Sì, sì, è palese, eh? Vuoi continuare? Che è? Abbiamo fatto game over, vuoi continuare? Ma è fichissimo. Cioè, raga, non è rascontato già avere un'emanazione del nulla così, eh? Che se abbiamo azzeccato le teorie è tutto. Cioè, questo è superiore alla regina e all'ultima realtà. Cioè, se esiste, diciamo, il male su Fortnite è questo, eh? Vediamo, quindi. Non ti chiedi né chi siamo né perché ti abbiamo scelto. Forse è perché lo sai già. Pesissima. la tua mancanza di paura è incoraggiante. Vuoi veramente consegnarti all'ignoto? Pensavo di cesta al nulla direttamente. Sappiamo cosa pensi. Ti senti differente adesso. Vuoto e spaventato. Ma sotto c'è qualcosa di nuovo una fame che cresce. No, Galactus ha fame. No, sto chassando. Desideri continuare? Bello che te lo chiede all'infinito. Mamma mia. fighissima. Sei la prima persona da generazioni che è sopravvissuta a questo viaggio. Ve l'ho detto! Ve l'ho detto però! Ma ti aspetta molto altro. E arrivano i doni, no? Del nulla. Che sono le armi di Byte? Bellissimo. Sto desideri continuare all'infinito mi sto spaccando. Bello. Per forza perché stai diventando parte di loro. Sistere ti ricompenseremo. Eh, ragazzi! Continuando oltre questo punto perderai tutto ciò che sai e tutto quel che eri. Punto di non ritorno, eh? Desideri continuare. Mamma che fotta! Che figata! abbandonato il passato. Bene, continuiamo. È un rito praticamente, eh? Questa è la tua ultima possibilità. Continua e il tuo destino riecheggerà per sempre. Vi prego, ditemi che dobbiamo giocarle con Byte queste missioni. Siamo obbligati a giocarle con la skin di Byte. Sarebbe bellissimo, però non credo. Sarebbe stupendo, però. Hai fatto la tua scelta. ma d'altra parte non puoi fermarti adesso. Il tuo vero viaggio inizia adesso. Raccogli il premio supremo. Mamma mia. Resta sempre allerta quando avremo bisogno di te ti convocheremo. Allora se queste missioni sono giocabili per forza solo da Byte e ti raccontano come lui è diventato un esponente un alfiere del nulla sarebbe incredibile se lo fa il nostro looper va bene lo stesso perché è in contatto con questa prova e va bene ma se fosse ragazzi per narrarti la storia di Byte che poi tu trovi nel pass qui siamo veramente a livelli allucinanti che che dire cioè è fantastico ragazzi non so non ci stanno parole che bisogna dire che bello cioè non vedo l'ora di giocarle stasera le giochiamo insieme canale viola mi raccomando seguite e niente ragazzi stupendo tutto stupendo non vedo l'ora di scoprire meglio questa patch sono veramente contento giuro contentissimo ci vediamo al prossimo o stasera in diretta ciao ragazzi